Ci può ricordare quanto costa mediamente ospitare un anziano all'interno di una casa di riposo? Allora, nella nostra provincia ha la media di circa 1.550 euro, media che va dal 1.180 di Covo e 2.580 della Zavari di Gorle, quindi lì in mezzo ci sta una media di 1.555 euro. E in linea rispetto al dato regionale? Leggermente più bassa rispetto al dato regionale, anche perché probabilmente noi abbiamo una storia diversa rispetto alla regione Lombardia. Ci sono stati dei rincari recentemente? Ci sono stati alcuni rincari dovuti anche al fatto che è cambiato il sistema di pagamento da parte di regione Lombardia e quindi viene a mancare mediamente un 2% rispetto a quanto erogato da regione Lombardia nel 2010. Un esempio semplice, Clusone ad esempio, dato il numero degli ospiti, andrebbe a perdere circa 75 mila euro rispetto al 2010. So che proprio in merito a Clusone avete chiesto degli incontri per discutere gli ultimi rincari. Clusone è una situazione un po' particolare, tra l'altro la RSA è un RSA comunale, quindi abbiamo chiesto degli incontri sia al Sindaco sia al Consiglio di Amministrazione, che si è tra l'altro appena insediato. Stiamo aspettando a giorni che ci sia la possibilità di poter fare un incontro serio per valutare effettivamente la possibilità di ridurre quelle quote che sono state proposte, che sono state attuate dal 1 gennaio di quest'anno. Grazie. Grazie.